Trasferta Raffaele Mancini di Fano per il Campobasso, una gara che nasconde diverse insidie per i lupi, i marchigiani alle prese con una crisi societaria che va avanti da diverso tempo, cercano punti per evitare la retrocessione diretta. Il Fano ha raccolto solo sette punti nel girone di ritorno, a dire il vero ad un certo punto della stagione, circa un mese fa, la squadra sembrava aver mollato gli ormeggi. Poi l'affermazione netta ai danni del Chieti, il pareggio maturato a Piedimonte-Matese e la buona prestazione di domenica scorsa allo stadio Gran Sasso, 2-0 il finale per l'Aquila, hanno messo in luce un collettivo che sembra aver messo da parte momentaneamente le vicende extracalcistiche. In effetti l'obiettivo salvezza ha compattato il Fano che annuncia dunque battaglia alla capolista. Il capobasso deve pensare al suo percorso, certo in questo tipo di gare l'approccio iniziale è fondamentale, quel tipo di gare che vanno indirizzate subito con concentrazione e cinismo, onde evitare spiacevoli sorprese. Gli uomini di Pergolizzi hanno dimostrato di sapere affrontare questo tipo di match anche con discreta tranquillità, senza forzare le giocate, in attesa dell'episodio propizio per sbloccare l'incontro. Ci attendiamo una gara sulla falsa riga di Tivoli, avversario attento in fase difensiva e pronto a colpire in ripartenza. Il tecnico rosso-blu valuta il possibile rientro di Nonni, anche se il capitano potrebbe tornare a pieno regime nel derby contro il Vasso Girardi. È pronto comunque Gonzales, per il resto non dovrebbero esserci cambiamenti nella formazione titolare. Aggiungiamo che i tifosi del Campobasso hanno acquistato per ora un numero di 180 tagliandi, ovviamente riservati alla tifoseria ospite. In Altissimo Molise è prevista una vera battaglia tra Vasto Girardi e Termoli. Le due squadre sono in corsa per la salvezza ai padroni di casa per evitare la retrocessione diretta e giocare almeno il play-out. I giallorossi sognano il mantenimento della categoria senza la coda degli spareggi. La situazione per il Vasso Girardi è disperata, le occasioni per accorciare la classifica sono sempre meno e gli scontri diretti in casa vanno vinti anche per un difetto di fabbrica stagionale che vede gli uomini di Marmorini in grande difficoltà lontano dal Ditella. A tal proposito, l'unico successo esterno dei gialloblui stagione è arrivato proprio al Cannarsa nel derby giocato all'andata. Il Termoli vuole vendicare proprio la sconfitta del girone d'andata e riprendere la corsa a salvezza dopo lo stop di domenica scorsa. La squadra in salute, la sconfitta contro la vicecapolista San Benedettese, è arrivata al termine di un'ottima prova dei giallorossi. Per questo motivo, Mister Carnevale ha chiesto ai suoi una prova da tre punti per riprendere il cammino.